Ciao a tutti amici di MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento una tuta d'allenamento per il Liverpool, del Liverpool per la stagione 21 e 22. La tuta è prevalentemente nera, con queste bande laterali di color tarpa, color ottone, veramente molto elegante e che piace tanto ai pigioli, tra i quali anche il mio figlio. I loghi e lo swoosh della Nike sono ricamati. Nella sua semplicità e nel suo colore nero è una tuta che può essere portata tutti i giorni nella vita quotidiana, veramente consigliata. Realizzata in poliestere, assicura un'ottima traspirabilità e di rimanere asciutto durante l'allenamento. Ditemi, cosa ne pensate? Devo dire che secondo me è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle, fatta veramente molto bene, ha mandato fuori di testa mio figlio che l'ha voluta assolutamente. Ora, prima di lasciarvi, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Scrivetemi nei commenti se volete qualche recensione in particolare, così che possa prenderne visione. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media, che secondo me è giusta per la mia altetta.